ciao amici di napolita tutti parlano degli acquisti come giusto che sia io invece voglio parlare di una sessione vicinissima di un calciatore che tutti vogliono bene anche io il primo però nessuno ne sta parlando ci penso io iniziamo parliamo tutti del mercato no ora sta sempre uscendo questa situazione vega dove sta tutte queste cose simpatiche sui social ma vega ha perso l'aereo ma la valigia non è ancora pronta tutte queste cose simpatiche però mi va di dire che l'operazione vega è un'operazione fatta siamo ai dettagli ovviamente l'operazione è chiusa 30 milioni 5 di bonus il napoli sta tentennando su quella percentuale ipotetica alla rivendita si sta parlando della situazione clausola eventuali sulla rivendita poi sui diritti d'immagine sapete no che è un po complicata la situazione con il napoli perché il napoli vuole gestire diritti d'immagine dei suoi calciatori quindi siamo ai dettagli ci vuole un altro pochino ma c'è una notizia che arriva già da domenica però non tanti l'hanno toccato come argomento perché c'è la situazione dem diego dem messo fuori rosa non era tra i convocati per la partita di frosinone sabato scusatevi continuo a dire domenica ma era sabato però per me quando c'è il napoli sempre domenica non è stato inserito nella rosa dei titolari e quindi no dei titolari di quelli che sono andati a frosinone e possiamo dire che un calciatore da vendere e diego e noi noi lo apprezziamo mi va di ricordare il suo utilizzo all'ipsia dove faceva il vice capitano a volte faceva il capitano giocatore utilizzato sempre però lui ha preferito venire a napoli si chiama diego no il padre gli ha messo sto nome per diego armando maradona quindi già da lì noi noi praticamente apprezziamo il ragazzo ci ha dato una mano utilizzato spesso soprattutto con gattuso poi ha avuto un problema anzi due direi io il primo che il calcio un po è cambiato si predilige un po più la fisicità spalletti la vedeva così garcia la vede così e quindi questo è il primo problema che ha dovuto affrontare diego demme il secondo quello secondo me ancora più importante che davanti a lui c'è stata la crescita esponenziale di uno dei playmaker più forti d'europa che stanislav lobotka questa cosa lo ha messo in disparte perché per esempio spalletti aveva proprio il timore di poterlo inserire nelle rotazioni perché la mancanza di stanislav lobotka portava a un a un indebolimento diciamo della fase di costruzione del napoli dobbiamo essere chiari quindi demme purtroppo è stato oscurato da stanislav lobotka per il bene del napole dobbiamo essere onesti e poi dobbiamo anche dire che il ragazzo ha avuto anche parecchi problemi nei momenti importanti vi ricordate no anche proprio l'anno scorso ebbe un infortunio brutto al ginocchio che lo taglio completamente fuori magari se lui li riusciva ad avere un po di minutaggio poteva riuscire a mettersi in mostra di più con luciano spalletti può essere che l'avrebbero utilizzato cioè il mister lo avrebbe utilizzato durante l'anno però non ci è riuscito quindi siamo ai saluti possiamo dirlo chiaramente e l'operazione dovrebbe essere questa qua il trasferimento più vicino per lui può essere l'erta berlino che vuole il calciatore ma anche qui vediamo un diego demme di livello assoluto un gran signore oltre che un gran professionista perché lui vuole andare all'erta berlino squadra che retrocessa in germania è pronto a guadagnare un milione e mezzo a differenza dei due milioni e mezzo che guadagna a napoli e questa cosa gli fa onore bravo diego io ti vorrò sempre bene perché sei stato un signore e soprattutto voglio sottolineare che nei ritiri quest'anno sei stato top ritiro di di maro veramente ad altissimo livello anche a castel di sangro quindi hai fatto sempre il tuo dovere e io ti saluto realmente con piacere e ti ringrazio per quello che hai dimostrato ai napoletani anche se non sei non sei riuscito a farti vedere tanto grazie diego la situazione invece economica per quanto riguarda il napoli il napoli che all'inizio chiedeva sei milioni è sceso addirittura ad un milione e mezzo però l'erta berlino non ha la possibilità quindi deve prima cedere qualcuno per poi poter arrivare al calciatore altra notizia che mi arriva proprio da pochissimo è che addirittura si sia inserita il genova il genoa che potrebbe scegliere diego dem quindi purtroppo il ragazzo è ai saluti e ripeto mi dispiace perché io in diego vedo tante potenzialità è un calciatore preso insieme allo botca proprio nel periodo di gattuso per fare il vertice basso l'unico problema è quello della fisicità che ora mette un po da parte questi giocatori che tecnicamente sono bravi ovviamente lo botca è più bravo di teme ma teme è un metronomo ordinato cioè che magari non ti inventa la giocata quella lì sublime come fa stanis lo botca però bada molto al suoto non è male non è male ripeto le problematiche che vi ho detto prima sono importanti e fondamentali per l'esperienza di diego dem a napoli mi raccomando ricordatevi sempre di lasciare un like al video se vi sta piacendo e iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche fondamentale così non vi perdete nessun contenuto e potete sempre trovarvi i contenuti a disposizione perché se no poi li perdete e bella prendete con me parliamo poi di quest'altra operazione di mercato non voglio andare più ad analizzare tatticamente la partita ovviamente di prosinone l'ho fatto in dei video precedenti l'ho fatto anche ieri a campania sport sono intervenuto a parlare un po di quello che abbiamo visto ho subito segnalato la differenza tra spalletti e garcia però l'ho detto in un video andatelo a vedere lo trovate nel canale un video dove c'è proprio sottolineata la differenza tra garcia e spalletti ho parlato quindi di diego del meno uscita e ora voglio dire una cosa velocissima su questa probabile entrata diciamo che è chiaro lozano non farà parte del napoli del futuro non sappiamo se arriverà a gennaio probabilmente arriverà a gennaio o magari andrà via ora le sirene sono sempre le stesse il deserto quindi la rabbia oppure c'è sempre l'interesse dei los angeles fc però ovviamente qui si parla di gennaio nel frattempo il napoli sta andando fortissimo sull'instrom questo ragazzo molto interessante lo abbiamo visto in una delle due partite di champions league contro line track francoforte un classe 2000 23 anni molto interessante alla fisicità giusta un metro e 81 arriva dal brand e gioca nel line track francoforte di piede destro un calciatore che può diventare veramente forte la quotazione è super giù tra i 25 30 35 le andiamo a capire però dobbiamo essere chiari ad oggi bisogna prima sistemare lozano ma ripeto non so se ora o a gennaio può darsi che il napoli lo prende ugualmente perché è sempre un calciatore forte da poter prendere però è diversa l'operazione dobbiamo capire quanto il napoli ci punta e io credo che sia un profilo perfetto per come ragione il napoli e dobbiamo capire soprattutto la situazione lozano quindi rispetto a gabrie vega e rispetto alle operazioni fatte quindi caio stennata da questa di l'instrom la vedo molto pompata però aspettiamo aspettiamo un attimo perché dobbiamo capire meglio la situazione lozano poi è uscita una notizia a perdonatevi mi sono dimenticato fatemi sapere anche voi cosa ne pensate diego demme nei commenti ditemi come reputate sto giocatore perché poi mi sono dimenticato di chiedervi lo scrivetelo scrivetelo e poi vi voglio anche chiedere qual è per voi l'operazione da fare ora in avanti perché come dissi in qualche video fa è uscita oggi la notizia che il napoli forse sta cercando un altro difensore vi ricordate io vi dissi guardate ragazzi ho la sensazione che il napoli dopo nata non può andare a prendere qualche altro difensore uscita la notizia di questo mohamed sima can giocatore di 23 anni difensore dell'ipsia molto molto interessante franco guineano franco guinea francese nasce in guinea ma passaporto francese molto interessante giocatore che ha fatto la prima di campionato da titolare con ellipsia e non è male ragazzi e chi lo sa se il napoli vuole prendere un altro difensore secondo voi fatemi sapere anche questa cosa nei commenti il video termina qui mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche e lasciate un like se vi è piaciuto il video mi raccomando escono contenuti ogni momento quindi senza la campanellina va a finire che vi perdete qualcosa e poi dopo dite sasa ma come hai detto una cosa io non c'ero è colpa tua un bacio e un abbraccio da sasa e sempre forza napoli ciao